Io Massimo lo conosco come professionista prima della mia discesa in campo e l'ho sempre stimato e apprezzato. Adesso conosco Massimo Arecco anche sotto il profilo umano e lo conosco per la sua grande competenza politica. Massimo Arecco si è messo a mia disposizione per aiutarmi a colmare le mie lacune che comunque c'erano perché io non ho mai fatto parte del mondo politico, non sono mai stata come lui consigliere comunale. Massimo Arecco è un ottimo giocatore come sono io per formare una squadra vincente.